Al comunale di Castelnuovo-Vomano, i padroni di casa cercano il riscatto dopo la sconfitta contro il Fiuggi, ma hanno di fronte la squadra più in forma del campionato. La San Benedetti si arriva in Abruzzo, forte di 13 risultati utili consecutivi. 13 minuti e gli ospiti la sbloccano, con il gol di Lisi che in un batti-ribatti dentro l'area trova il varco per beffare Natale. Quello che succede subito dopo è da Guinness dei primati. Il Castelnuovo rimette la palla al centro e pareggia dopo una manciata di secondi, con l'undicesimo centro stagionale di Lorenzo Emili. Le due squadre continuano a costruire pericoli su pericoli. Cardella da una parte e Prestiani dall'altra testano i riflessi dei due portieri. Al ventunesimo con tanto dubbio su fall nell'area dei padroni di casa, l'arbitro Bianchini lascia giocare. Minuto 33 e altro momento clou, con l'espulsione diretta di Lorenzo Emili per una gomitata a un avversario e un'accesa mischia all'interno di una partita molto nervosa che vedrà ben 10 ammoniti totali. Sul finire di primo tempo la Sambra doppia, ma il gol di Cardella viene annullato per fuorigioco di fall. L'inferiorità numerica cambia la partita, ma non come speravano i marchigiani. Il Castelnuovo si chiude bene e non lascia spazi. La San Benedetti si attacca senza pungere e al ventinovesimo la partita si ribalta. Splendide azione personale di Deigidio, che dalla sinistra mette in mezzo e trova foglie al posto giusto e al momento giusto. Gli ospiti accusano il colpo e ci provano senza creare veri e propri pericoli. L'occasione più pericolosa è per Fall, che da buona posizione calcia al lato. All'ottantanovesimo i Rosso Blu reclamano per un contatto su Ferri Marini, ma è tutto regolare. E l'ultima occasione è un tiro cross impreciso di Frulla in pieno recupero. Il Castelnuovo brinda la quarta vittoria nelle ultime cinque giocate in un ormai inespugnabile comunale e fa un passo importantissimo verso la salvezza. Per gli uomini di Alfonsi un cappò che brucia tanto, pur essendo il primo nel 2022. Sicuramente, perché al di là del fatto che cosa importante sia rimasto in dieci, abbiamo incontrato una grossa squadra che veniva da 13 risultati utili consecutivi. Noi veniamo da una sconfitta che bruciava perché non la meritavamo, però è una dimostrazione che questa squadra ci crede in quello che sta facendo, ci crede nella salvezza. E affronta ogni avversario con un'umiltà, ma nello stesso tempo con la consapevolezza di poter battere chiunque se c'è un certo tipo di atteggiamento in campo. Sì, 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 non si può essere convinti. Le partite vanno giocate, vanno giocate con l'atteggiamento giusto. Non siamo stati bravi a farli concentrare. Ripeto, abbiamo sbagliato, ne prendiamo atto. Cerchiamo di riazzerare un attimino tutto e di ripartire.